Una grandissima gioia! Guarda, un'emozione unica davvero, non ce l'aspettavamo, è venuto tutto così all'improvviso, abbiamo giocato benissimo e siamo una squadra che davvero se lo merita, ma se lo merita tanto perché abbiamo lavorato tantissimo e ci siamo impegnate per vincere questa prima competizione. Dici non ve lo meritate, non ve lo aspettavate, ma 21 vittorie di fila senza nessuna sconfitta sono qualcosa di importante? Sì, sono qualcosa di importantissimo, però sai, infatti noi siamo diventati ormai l'obiettivo di tutte le squadre, vogliono tutti farci perdere, ma guarda, finché giochiamo così davvero non ce n'è per nessuno. E finché tu difendi così? Ma no, vabbè, finché murano così le mie compagne, dipende tutto dal muro la difesa secondo me, quindi se loro sono composte e mi lasciano le mie palle io le prendo. Cos'è l'emozione di questo gruppo? Guarda, è un gruppo speciale, davvero, siamo giovanissime, tanta voglia di lavorare e non ci fermiamo mai, non ci arrendiamo mai, è davvero una cosa bellissima, lottiamo su tutti i palloni, davvero, guarda, è un gruppo speciale. Ultima cosa la dedica? Lo dedico al mio papà che non c'è più, è scomparsi due anni fa e li penso sempre, davvero. Una serata fantastica, MVP, un sogno? Sì, infatti io non vorrei niente di più per adesso, quindi bellissima prestazione, un 3-0 che secondo me se chiedevi alle ragazze nessuno se lo aspettava, sono stati veramente grandi e abbiamo giocato veramente bene. 21 vittorie è il segno di qualcosa di importante? Esatto, è dimostrazione che ci troviamo molto bene con le ragazze, ci vogliamo tutte un gran bene, stiamo lavorando insieme veramente bene, quindi grande. 24 anni, capitana di questa squadra, che significato ha per te? Tu ci tenevi particolarmente, avevo letto che la Champions League era uno dei tuoi sogni di ragazzina. Sì, è un sogno, diciamo che va bene che non giocava al Champions League, a me va bene così, guarda, è veramente un sogno che Busto mi sta realizzando, quindi grande. La dedica? Io la dedico al mio papà, quindi così.